Speriamo abbastanza Allora loro hanno tantissime truppe da tiro Quindi se riesco ad aggirarle E così Poca volontà e ok Dunque dobbiamo puntare a sfondare Quindi queste le faccio subito avanzare Plumbatare le tengo per di qua Questi li mando Ah questo fianco è abbastanza coperto Di queste le mando qua Queste le sposto per di qua E il mio generale e i catafratti si spostano Per di qua Ok Allora avanziamo Però sono disposti lungo Non so come sono disposti effettivamente Foot archers Ok andiamo a bersagliare questi Galleria che mi avanza Troppe da lancio che mi avanzano a loro volta Allora queste le posso puntare su queste Va bene Queste su queste Questi su questi E noi avanziamo Mi stiamo bersagliando E se le muoviamo Ok Wow 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 Questo non l'avevo calcolato Ho sbagliato a posizionarli tutti su un fianco Stop Hanno puntato sulle mie migliori armi Queste cosa sono Non lo capisco Se si fermano un attimo Cavalleria da tiro Abbiamo ingaggiato i maledetti che mi hanno attaccato le baliste Si Maledetti sasaniti Con le splendide armature Guarda su no Tu riprendi il comando Questi bombardiamo Questi bombardiamo Questi Mica stanno andando in fuori Mi hai spero no 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 sono in loro Questi così Togli questo Il VM combatto è qua Voi siete plumbatari Ok questi li abbiamo caricati A questo punto Sfondiamo per di qua Sfondiamo per di qua Ok ci siamo Valiste mi devono sparare a questi Gli arcieri mi mirano a questi Questi sono in fuga Questi non li prendiamo Quindi ci dedichiamo a questi All'assalto 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 Ok questi li stiamo spingendo oltre Qui ci siamo Qui vedo che abbiamo dei problemi Neanche troppo Marciamo Sono in modalità carica Quindi inutile Questi come vanno Questi li possiamo lasciar perdere E questi Da dove sono usciti fuori Attenzione Versagliamo Con le frecce Ok qui ci siamo Qui ci siamo Qui continuiamo ad avanzare Pausina Ok questi Questi credo Siano in fuga Gli arcieri Vediamoli Spostiamo All'assalto Di questi Stiamo avanzando Che stiamo ancora combattendo Vedo La difesa Sembra certa Arriva una tempesta di sabbia E questi li abbiamo presi Ok tutto veloce Molto Presi Inseguiamoli Questi ce li abbiamo Questi no Falteria leggera Abbiamo perso delle unità Ah beh La loro cavalleria pesante Questa non me l'aspettavo Allora Questi stop Ok qui ci siamo Questi sono tutti in fuga Chi è che mi bersaglia Questi? È stata una battaglia Molto Rapida Con i sassani Difortunatamente Ah il loro generale È laggiù Eh sì è questo Ammazzatelo 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 10-25 Ora superiore la numerica Puoi bersagliarmi questi 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 stanno arrivando Proviamoci lo scontro Generale contro il generale Sono armati di mazza Quindi in teoreo sono anche più forti Credo Mi servono rinforzi Oh Buono Chi era? Capilano Shahen Va bene Queste erano forti comunità Dai l'ultimo Ce la possiamo fare E li abbiamo ammazzati Ok 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 Può bastare 200 morti 1261 uccisioni I nostri toriforo Stavano fatti 242 Non male Stavano fatti